Finalmente la Puglia ed il Gargano in particolare è pronta ad accogliere la World Masters Orienteering Championships, i mondiali di corsa orientamento. L'imponente organizzazione curata dalla FISO e dal comitato organizzatore VUMOC sono ormai ai dettagli e sono pronte ad accogliere gli oltre 3.000 atleti da ben 40 paesi. Dall'8 al 16 luglio negli splendidi paradisi di questa magica regione si raduneranno tantissimi amanti della natura e dello sport. Le bellissime località scelte faranno da cornice a questo importante evento orientistico. I più forti orientisti Masters al mondo provenienti con un alto numero di partecipanti da Svezia, Finlandia, Norvegia, Repubblica Ceca e Svizzera eleveranno il prestigio ed il valore delle gare. Gli oltre 61 comuni interessati in tutta la provincia apriranno le porte agli sportivi di tutta Europa offrendo un mix di natura, cultura e bellezze del territorio. Il Gargano rappresenterà l'Italia nel mondo e tutti faranno squadra affinché i partecipanti possano tornare a casa con un ricordo straordinario. Gli atleti vivranno a stretto contatto con le bellezze del Gargano e ne diventeranno ambasciatori nel mondo. Gli oltre 62 comuni interessati in tutta la provincia. Gli oltre 61 comuni interessati in tutta la provincia. Gli oltre 62 comuni interessati in tutta la provincia. Gli oltre 62 comuni interessati in tutta la provincia. Ca cha 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 cha.